Allora invece parliamo di chirurgia estetica, andiamo nello studio del professor Alessandro Gennai e vediamo che cosa si può fare sempre in un tempo, come dire, limitato. Dottore Alessandro Gennai, che cosa farà, nel senso, qual è l'intervento che andremo a vedere? Allora, il trattamento che andremo a fare riguarda la parte interna del braccio, questa è una zona che spesso le nostre pazienti ci chiedono di migliorare e prima dell'avvento di questo nuovo acido ialuronico, per il corpo non avevamo grandissime armi a nostra disposizione. Questo che lo possiamo considerare un trattamento più che un vero e proprio intervento, dura in media il trattamento al massimo 30 minuti, dai 20 ai 30 minuti non di più. Questa è l'unica parte un pochino fastidiosa per la paziente, perché ovviamente è un piccolo forellino con dell'anestetico, ci permetterà di far entrare delle sottilissime cannule come queste che hanno tanti forellini che permettono di distribuire l'anestetico locale nello strato sottocutaneo. Io qui ho finito di fare l'anestesia, passerò nell'altro braccio e così intanto qui agirà l'anestesia. Bene, abbiamo finito l'anestesia locale anche da questa parte, adesso questo braccio lo lasciamo riposare in modo che aspetti l'anestesia e possiamo passare a fare il prodotto dall'altra parte. Andremo a mettere questo nuovo acido ialuronico che andrà a sistemarsi nella zona sottocute, quindi creare proprio sotto la pelle un tappeto di acido ialuronico, in modo da tonificare questa zona ridonando un aspetto più tonico al braccio senza fare nessun intervento chirurgico e senza nessuna cicatrice visibile. Questo è il materiale che viene iniettato, che viene completamente col tempo riassorbito nel nostro organismo. Io lo vado a posizionare proprio sotto pelle, questo tappeto va a tonificare appunto la pelle. Le zone più richieste sono ovviamente la zona dei glutei, la zona del seno, perché per esempio tonificare il seno senza bisogno di utilizzare le protesi o per chi non vuole fare l'intervento di protesi, è un ottimo, dà degli ottimi risultati. I polpacci, per esempio i pettorali negli uomini. Sono passati 25 minuti esatti, dottore, e l'intervento è finito? Assolutamente sì, il punto è già stato dato, adesso un cerottino e la signora può andare a casa. Questo è il risultato a fine trattamento, adesso faremo una piccola medicazione, vedete la pelle ha preso un tono migliore e più tonica e quindi si è perso quell'aspetto un pochino rilassato che c'era nel pretrattamento.